Allora, intervista doppia, Crucioni e Bini, un varaglio e un velista, un barriero anche. Allora, Crucioni, cosa ci dici di questa DJ24 esperienza italiano? E' una delle prime volte che mi capi di fare un italiano DJ, l'ho scoperto che quest'anno è, il primo l'ho fatto nell'87, il primo campionato DJ. Nell'87? Solo 30 anni, il primo campionato DJ l'ho fatto. E tu sempre uguale però. Sempre uguale. Aurelio, cosa ci dici di questo italiano di Loma d'Alena? Ma io, beh, va bene, parte sempre meglio la regata. Cosa ci dici di questo Crucioni? Non male che parte sempre bene, Aurelio, perché se partisse male... Eh, per fortuna. Come la vedete questa finale di G24? Come si concluderà questa regata? E' già sconsolato. Il secondo pure, probabilmente. Questo americano qui, raccontiamo che... Non può prendere OCS, più o meno. No, ma sembra che l'equipaggio di Vignaistura abbia rubato le vele agli americani. E' cambiato USA con ITA, no? Praticiamo l'Italia. Cosa è successo? E' vero questa storia che hanno rubato le vele ai G24 degli americani? Aurelio. No, noi le abbiamo rubate. Le abbiamo presi in prestito per quattie ore. Allora, un in bocca al lupo a tutti e buona regata per domani. Un momento domani. Ma altrettanto va. Stoccatevi. Buona fortuna, eh. Grazie, grazie. Grazie.